La gara partirà esattamente da questo punto del lago con i 750 metri di nuoto, acque calme e sostanzialmente condizioni ideali per poter nuotare. Ci sposteremo dopo la frazione di nuoto con una breve transizione sulla strada dove sulla bretella che collega Avigliana a Trana si svolgerà la prova di ciclismo. La parte di ciclismo non è particolarmente tecnica e sarà gradita dagli atleti perché la gara sarà senza scia e quindi su questi rettilinei potranno esprimersi al meglio. Conclusione finale con un giro attorno al lago di Avigliana, quindi paesaggio molto bello e conclusione sul prato antistante a noi dove gli atleti metteranno fine alla loro prova dopo circa un'ora di gara.